Ciao a tutti, sono Raffaello Ducceschi, ex campione dei 50 km di marcia. Sono qui per raccontarvi perché sostengo Stefano Mey alla presidenza dell'Atletica Leggera Italiana. Conobbi Stefano Mey in un Natale molto più felice di questo, triste del Covid. Fu il Natale dell'82, eravamo a Melbourne in Australia, dove per un mese 30 atleti italiani con i migliori allenatori ci allenammo per preparare al caldo le competizioni dell'estate. L'anno successivo ci trovammo di nuovo per la stessa ragione a gennaio alle Canarie per 15 giorni per preparare le Olimpiadi di Los Angeles. Allora questi natuni erano la normalità. Poi mi ritrovai ancora con Stefano, oltre che all'Olimpiadi di Los Angeles, all'Olimpiadi di Seul e mondiale di Roma. Ma il mio ricordo più caro va al campionato europeo di Stoccarda. Sulla 50 km io ero ottavo, al 48esimo chilometro, ero in rimonta, speravo un settimo, un sesto posto, ma mi stirai a un chilometro e mezzo dal traguardo. Stavo per ripetirarmi, togliermi il numero di gara, togliere le spille, poi mi rimise il numero e mi trascinai per un chilometro e mezzo, piangendo, zoppicando, verso il traguardo. Entrati in pista mi ritrovai che Stefano era sulla linea di partenza, nella semifinale, per andare alla ricerca di quello che poi sarebbe diventato il suo argento, dopo che aveva già vinto l'oro. Lui, campionissimo, ormai uscì dalla linea di partenza per venirmi a chiedere cosa mi succedeva e mi animò per arrivare zoppicando al traguardo, dove alla fine arrivai comunque al 13esimo, che fu la mia peggiore prestazione a livello internazionale. Ma non vorrei parlarvi solo di sentimenti e di cuore, sentimenti che mi legano a Stefano. No, vi vorrei parlare di un'atletica italiana che da decenni è in crisi. Da decenni non sa più ritrovare la strada della vittoria di quegli anni Ottanta, dove gli italiani erano sul podio, dove sul podio c'erano africani o italiani. E come si costruivano queste vittorie? Innanzitutto con grande tecnica di allenamento, allenamenti sviluppati tra il confronto di allenatori, atleti che si ritrovavano insieme a lavorare in questi raduni. Stefano conosce molto bene quell'atletica, ma ne conosce anche i difetti. I difetti erano innanzitutto che si dimenticarono della base. Ed è logico, perché in quegli anni la base era enorme, i campi d'atletica erano pieni, i giochi della gioventù erano pieni di ragazzi. Invece nei decenni successivi Stefano ha potuto vedere, seguendo l'atletica nei campi, organizzando, dirigendo, come i campi si sono svuotati. Perché la base è stata dimenticata. E l'altro grande errore di quell'atletica era il doping. E Stefano, cosciente che si può vincere puliti, senza doping, migliorando le tecniche di allenamento e la collaborazione tra allenatori, crescendo i talenti dalla base. Stefano ha dedicato la sua carriera quando era un campione al vertice, con le sue medaglie, con i suoi allenatori, a denunciare il doping e a lottare contro il doping. E ci ha dedicato tutta la sua vita. Quindi Stefano è la persona migliore, che ha conoscenze di quel glorioso passato, di come si costruivano risultati sani e puliti, di come lottare contro il doping, di come curare la base, di come crescere un'atletica, di come dirigerla, coccolando e facendo crescere non solo i giovani, ma anche l'attività master e l'attività della corsa su strada. Stefano, credo, sono convinto, è la persona migliore e più adeguata per dirigere l'atletica italiana e per ritrovare la strada della vittoria. Vogliamo Stefano Mei, presidente. Votate Stefano.